Bene, video di recensione di questo campanello, guarda lo vediamo, lo inquadriamo qui, lo inquadriamo di qua e vediamo com'è che funziona, premo il pulsante, ottimo, ottimo, premo il pulsante, veramente ottimo, veramente favoloso Oh, ha cambiato rumore, come hai fatto a fai cambiare rumore? Vai, interrompi Interrompi sta cacera, che bella, vai ancora, vai col suono Ma forse, c'è diverso, un modo per fargli cambiare rumore Come sarà, pressione lunga, eccolo, ha cambiato rumore Com'è, pressione lunga, pressione corta, com'è che cambia rumore? Perché è elettrico Oh, è fantastico, una cacciara fantastica Ci vanno due mini stilo Che cacciara, ragazzi Ci sono i led? Ci illumina? No, no, non c'è il led Non c'è il led Te l'ho messa anche uno del passeggino tuo, eh No? No, l'ho ordinato, ma arriva, ma arriva domani Ma non la sto Ma non arriva domani? Eh, oggi è arrivato questo, domani arriva quello là Quello tuo però è più potente, eh Quattro volte più potente Quattro volte più potente e punta più potente